Bilancio più che positivo, bilanci ancora in sofferenza. Pasqua e Pasquetta hanno fatto segnare numeri da record in tutto il Bassanese, ristoranti presi d'assalto, alberghi felici del pienone e centri storici rivitalizzati da famiglie e turisti che hanno apprezzato le piccole botteghe e le realtà artigianali. Dunque questo bilancio è senza dubbio favorevole. Molto molto positivo, infatti ci fa sperare a numeri molto simili al pre-covid, quindi sotto il profilo del numero di presenze in città e del flusso di visitatori e anche per i pranzi di Pasqua e Pasquetta sicuramente un bilancio più che positivo. Tuttavia i bilanci, quelli degli esercenti colpiti da due anni di pandemia e dal caro bollette, restano ancora deficitari. Questo surplus di turisti che arriveranno non andranno a mitigare quello che abbiamo perso negli ultimi due anni, soprattutto quello che abbiamo perso con la crisi energetica che tuttora ci sta mettendo in difficoltà. La nota lieta che diventa colonna sonora di questa due giorni pasquale a cui si uniscono i prossimi giorni di festa del 25 aprile e del primo maggio è che turisti e visitatori stanno riscoprendo il centro storico. Adesso il turista straniero riesce a arrivare più nelle nostre botteghe, nei nostri ristoranti perché ha trattato dei social network che sicuramente fanno una gran parte del lavoro.